Ciao a tutti, io mi chiamo Jessica, ho 22 anni e vivo in provincia di Cremona. Da poco più di un anno vivo da sola con i miei tre cani, con un gatto da una settimana e tre ratti. Lui è uno dei tre, lui si chiama Russell. Ho aperto il canale YouTube da circa tre anni. Mi piace fare i montaggi video e avevo caricato come primo video un montaggio appunto del primo anno passato col mio ragazzo, attualmente ancora lui. Comunque non avevo niente da raccontare, insomma sì ho qualche passione ma non è una passione così facile da raccontare come i tutorial di trucco, o piuttosto che la nail art o non so suonare strumenti musicali, quindi non potevo strimpellare in qualche video. Ma una delle mie più grandi passioni, come potete notare, sono gli animali. Pensavo appunto in questi video di parlare di qualsiasi cosa, tra cui come vivere da soli, presentarvi tutti i miei animali proprio uno per uno. Russell ormai l'avete già visto, non impressionatevi, so che state pensando ma che razza di animale è? È un ratto, un ratto comunissimo, però è pelato. Come esistono i cani pelati, i gatti pelati, lui è un ratto pelato. E è una razza, non è niente di... Razza dici che non piaci? Sei bello amore. È un ratto come un altro. Non è un criceto, dato che pesa quasi, non quasi, più di mezzo chilo. E non è l'unico che ho, appunto, come dicevo, altri due ratti. E sono suoi fratelli e sono tutti neri. Quindi gli altri il pelo ce l'hanno e quando ve li presenterò, vi rendete conto che sono normalissimi i ratti, che a molti di voi faranno schifo. Ma penso che tra di voi ci sarà qualcuno che potrà perzare, insomma, non sono l'unica ad averli. E vi presenterò anche i miei cani e il mio gattino piccolo, che ha due mesi, che è con me da una settimana. Vi racconterò come vivere da sola, vi spiegherò un po' di cose, insomma, curiosità. Ma più che altro penso che non siate curiosi di sapere come vivo da sola, quanto, come mai, o perché ho tutti questi animali. Beh, se qualsiasi domanda abbiate, insomma, vi risponderò anche, perché se non mi fate domande non saprei neanche come partire a fare un video. E niente, prossimamente ne caricherò un altro dove, se vi va, vi presenterò tutti loro. E nulla, ci vediamo presto, vero amico? Ci vediamo presto? Ci vediamo presto. Un bacio a tutti, ciao! Qualsiasi argomento, basta non parlare di politica che odio, calcio che odio, ecco, molti ora mi odieranno. Vi spiegherò anche, magari, come mai vivo da sola, anche se... Scusate, sto facendo un video. Mico? Ehm... 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 Fallosi, insomma... Insomma... Quante volte dico, insomma... Insomma... Comunque, ho il canale di YouTube... È strano, perché pensavo fosse più semplice. Invece parlare da sola con una videocamera non è tanto... Sano. Mi baci, Russell. Mi baci, Russell. Tanti baci. Saluta. Sì, va. Sì, va. Sì, va. Sì, va.